È una medley molto bella, scritta da Hans Zimmer e dal suo, chiamiamolo aiutante, collaboratore, Klaus Badel, la cronassolora di Pirati dei Caraibi, in questo caso la maledizione della prima luna, piena di temi molto molto belli e anche abbastanza articolata e complessa da eseguire. Pirati dei Caraibi, buon ascolto barra visione, grazie. Pirati dei Caraibi Pirati dei Caraibi Pirati dei Caraibi Pirati dei Caraibi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.